Dario Vassallo, presidente della fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, scrive ad Enrico Letta. Nella lettera Vassallo chiede che si apra un dibattito nel Partito Democratico a livello nazionale per indagare su eventuali responsabilità degli uomini del partito, non solo sull'uccisione di Angelo Vassallo. Il PD accusa Dario Vassallo non ha mosso un dito per cercare la verità. Per molti la figura di Angelo Vassallo è stata solo una passerella mediatica. Sono dichiarazioni dure quelle del fratello del sindaco pescatore nei confronti di una componente del partito guidato da Enrico Letta. Gentile segretario comincia la lettera di Dario Vassallo, sono 11 anni che cercò la verità sull'uccisione del sindaco pescatore di Pollica. Durante questo tempo infinito ho parlato a milioni di persone che hanno conosciuto la storia di Angelo, appassionandosi e condividendo il nostro percorso, creando tutti insieme una grande rete che si chiama Fondazione Angelo Vassallo. Tutto questo, aggiunge, non sarebbe accaduto se non avessimo avuto accanto i sindaci di Terre d'Acqua, sindaci emiliani iscritti da sempre al suo partito, che è stato anche il partito di Angelo, sindaci tosti che conoscono geneticamente la sofferenza e la resistenza. Dario Vassallo chiede ad Enrico Letta nella sua missiva che il partito democratico controlli l'operato perpetrato negli ultimi 11 anni da parte dei suoi iscritti nel Cilento e a sud di Salerno. Una richiesta che lo stesso Vassallo definisce inattuabile, perché, secondo il presidente della Fondazione Angelo Vassallo, se Letta mettesse in atto un'azione di controllo del genere, il partito imploderebbe, non solo a livello locale, ma nazionale. Pertanto, accusa Vassallo, il suo partito continuerà a galleggiare in balia di correnti che nel tempo sono diventato un partito dentro al partito. Ma resta un unico dubbio, chiude con una domanda la lettera di Vassallo a Letta, se arriva prima la magistratura. Se ciò accadesse e accadrà, anche lei sarà al termine del suo progetto di rinnovamento.